il corretto a navigare è la regola 2 penso da sempre del regolamento di regata il cosiddetto fair sailing nella versione internazionale delle regole e mi è venuto in mente perché nel weekend abbiamo fatto una regata a chioggia ricordando Ezio Donaggio che è morto praticamente in battaglia nel senso che si è sentito male in dinghi purtroppo insomma poi dopo un po' è mancato e quello che mi viene in mente sono due cose una è stiamo attenti stiamo attenti alla nostra salute perché comunque la vela non è uno sport pericoloso però bisogna comunque stare attenti stare attenti alla propria salute e la seconda cosa che mi viene in mente è che non dobbiamo essere perfetti però dobbiamo essere provare a essere corretti quando facciamo qualche marachella qualche marachella dobbiamo cercare di riparare con i nostri amici o con una birra o con un bicchiere di vino con una pacca sulla spalla con un consiglio con quello che volete voi in modo tale che poi magari tra qualche anno qualcuno ci ricordi facendo due bordi in amicizia e pensando a noi con affetto ciao buona serata